Situazione meteo, acropalati, pioggia abbattente, cati-cati, per tanti anni non si vedono una cosa del genere. Così forte, mi ricordo quando ero bambino. Qua siamo in discesa, vedete, l'acqua comincia veramente a diventare copiosa, abbondante. Acqua tutta carica, qui a Acropalati, provincia di Cosenza, ma tutta la zona ionica è così, anche temporale e sempre che sta peggiorando ancora di più, vedete la situazione che è messa male male, mi figura a mirto quello che sta capitando in quelle zone. Le abbiamo ancora per tutta sera, fino a stasera tarda è così, anche temporali, ci sono anche dei tuoni ampi. Io rientro, i gatti sono tutti rientrati a casa dalla paura, mi sto proteggendo dentro casa, chiaramente perché, insomma, non possono stare fuori. E' il classico tempo che fa quasi impressione, non siamo nemmeno tanto abituati. In un'altra parte abbiamo la fortuna che dovrebbe proprio capitare chissà che, però fa quasi impressione questa roba, vedete, credete, è un fiume di 600 anni. Ovviamente tantissimi anni che non vedevo una cosa del genere e tra poco potrebbe diventare ancora di più. Da rientro, va, speriamo bene e incrociamo le dita.